E' chiaro che se lei vede un maschio molto sgargiante, con una coda tipo quella del pavone pesantissima, che è riuscito a sopravvivere nonostante quel tipo di ornamento, è chiaro che il meccanismo è quel maschio se ce l'ha fatta perché ha dei buoni geni, quindi io mi accoppio, mi faccio dei figli con lui perché trasmetterà quei buoni geni anche alla mia discendenza. Però in realtà anche questo è vero fino a un certo punto, nel senso che noi oggi abbiamo scoperto che talvolta poi la scelta femminile diventa arbitraria, cioè diventa una moda, potremmo dire effettivamente una moda, quindi alla femmina piacciono certi tipi di canti, per esempio del maschio, anche se in realtà potrebbero benissimo esserci degli altri canti altrettanto elaborati e altrettanto significativi per i buoni geni di quel maschio. Quindi quello che abbiamo scoperto recentemente è che c'è un elemento culturale anche negli animali, perché la moda è una cultura, vuol dire praticamente che in quella popolazione quel canto lì, quella melodia è quella giusta. Ciao Termo e benvenuto al podcast. Grazie. Volevo sapere, secondo te perché la teoria dell'evoluzione è così difficile da accettare per le persone? Ma sai ci sono tante ragioni, le abbiamo studiate, le hanno studiate i miei colleghi psicologi del pensiero, quelli che cercano di capire quali sono le tendenze, le propensioni del nostro cervello e hanno scoperto questo fondamentalmente, che la nostra mente per varie ragioni, tra l'altro questo è interessante, di tipo evolutivo anche quelle, predilige certi tipi di spiegazioni, quelle finalistiche per esempio, cioè quelle in cui c'è un fine ultimo verso il quale la situazione che tu stai studiando, la storia che tu stai vedendo, va, si dirige. Ci piacciono tantissimo le spiegazioni animistiche, cade un fulmine e noi anziché pensare ecco c'è stato un fenomeno di differenziale, di potenziale, no, pensiamo a come ci è andata bene, era un messaggio della natura, vuol dire qualcosa, c'è sotto qualche cosa. Quindi ci piacciono questi tipi di spiegazioni che poi portano quasi inevitabilmente al cospirazionismo, al complottismo e così via. Questa è la ragione fondamentale per la quale invece una spiegazione come quella evolutiva, che è fortemente storica, piena di contingenza, di casualità, non ci sono direzioni, non ci sono finalità, ma ci sono tanti meccanismi che si integrano insieme e danno origine a un processo appunto di causa-effetto, meccanico, ma anche molto contingente, non ci viene facile da spiegare. E la cosa che a me è sempre colpito molto è che Darwin questo, verso la fine della sua vita, l'aveva capito molto bene, perché in una lettera a un amico, a Thomas Henry Axel, gli dice guarda che il problema nostro non è tanto quello di aver messo in discussione il creazionismo, l'antropocentrismo, d'accordo, ma è che la nostra mente fa fatica ad accettare questo tipo di spiegazione non finalistica. Quindi, disse, tra 4-5 generazioni saranno ancora qui a parlarne e infatti sono passate 4-5 generazioni e siamo ancora qui a parlare. Diciamo che l'obiezione più nota, più famosa, è ovviamente quella di stampo religioso, creazionista, eccetera, e poi ne parliamo, ma diciamo una a cui forse appunto non si pensa è quella che afferisce un po' quello che dicevi tu, cioè l'idea che non è confortevole non sentirsi comunque alla fine di un progetto, di un percorso studiato in partenza, diciamo questa aura di perfezione e di unicità che ci piace magari anche a livello inconscio coltivare rispetto a noi stessi, insomma non è molto compatibile con l'evoluzione, non sbaglio. Sì, questo è un aspetto particolare del discorso generale che facevamo prima, nel senso che se tu ti accorgi dalle evidenze scientifiche che Homo sapiens è soltanto innanzitutto un ramoscello come tanti altri nel grande albero della biodiversità, che non abbiamo uno statuto speciale da nessun punto di vista, che, e questo non è abbastanza, perché quello che Darwin ci dice è che oltre a tutto ciò avremmo potuto benissimo non esserci, perché siamo figli di una serie di biforcazioni storiche contingenti, di catastrofi, di cambiamenti ambientali, di mutazioni genetiche, di estinzioni degli altri che hanno lasciato spazio all'evoluzione dei nostri antenati, insomma siamo figli di tutte quelle biforcazioni, è chiaro che la centralità della presenza umana nella natura viene fortemente ridimensionata. Quello che secondo me andrebbe sempre ricordato è che questo non è un messaggio negativo necessariamente, non deve gettarci nello sconforto e il fatto di essere diventati marginali e non al centro dell'universo, perché è una grandissima occasione invece, perché per esempio ci può far capire che siamo parte di un sistema più grande e quindi siamo affratellati, facciamo parte, non siamo soli, siamo dentro una grande storia dove non ci siamo solo noi, ci dà il messaggio dell'umiltà, per cui non dobbiamo presumere di dominare questo sistema, perché non ne siamo i padroni e questo dovrebbe essere molto importante da ricordare. Ci fa capire che siamo vulnerabili, cosa che ci eravamo un po' dimenticati obiettivamente, poi è arrivata la pandemia che ci ha fatto capire che la biodiversità dei virus può essere molto pericolosa e siamo stati messi in scacco da un organismo darwiniano semplicissimo, un filamento di RNA con intorno un po' di proteine ha distrutto la nostra vita sociale e economica per due anni. Ecco, questo ci insegna l'evoluzione, non darsi troppe arie, ma capire di essere parte di un sistema complesso meraviglioso. Dopodiché, sul piano filosofico, secondo me il fatto di essere qui come presenza non necessaria è bellissimo. È bellissimo perché vuol dire che abbiamo avuto un dono, un privilegio, un'occasione, che se ripetesse cento volte la storia passata non saremmo qui. Quindi vuol dire che siamo dei privilegiati e dovremmo avere più rispetto per la natura che ci ha permesso di emergere. Senti, tu hai scritto molti libri che poi trovate in descrizione del podcast, sia in audio sia in video. Uno che ho apprezzato molto è Imperfezione è una storia naturale. E appunto parla, tratta estesamente sotto molti punti di vista la questione dell'imperfezione umana, ma in generale del meccanismo dell'evoluzione. In che senso siamo imperfetti? Siamo imperfetti? Allora, io l'ho scritto quel libro da un lato perché volevo ancora una volta smitizzare certe immagini che noi abbiamo della natura. Un'altra che continua ad avere sempre grande successo è appunto che la natura sia un sistema perfetto, in equilibrio, armonico, saggio, addirittura buono. Cioè, questo errore che facciamo sempre è che pensare che qualcosa in quanto naturale sia buono. E invece no, perché se tu studi la natura ti accorgi che la natura è cambiamento, è trasformazione, è disequilibrio. Equilibrio vuol dire morte in biologia, quindi quando tu vedi un sistema perfettamente in equilibrio vuol dire che è morto, che non succede niente. Quindi la natura è trasformazione, è disequilibrio. E l'imperfezione è una chiave di lettura un po' provocatoria, ma scientificamente corretta, per capire una cosa importante dentro questo processo. Cioè che nell'evoluzione sostanzialmente si fa di necessità a virtù, cioè non si riparte mai da zero. Il processo evolutivo, la sezione naturale, le mutazioni, tutti i fattori che portano al cambiamento in natura, sono, come dire, hanno un meccanismo di funzionamento artigianale, non ingegneristico. Cosa voglio dire? La mentalità ingegneristica vuol dire io faccio un progetto, un piano, parto da zero e voglio arrivare a un risultato, una macchina, un edificio e così via. No, l'evoluzione non parte mai da zero, parte sempre dal materiale che c'è già a disposizione, che ti viene dal passato, che si porta dietro dei vincoli, dei suoi limiti, e poi con quel materiale si costruisce qualcosa di nuovo, lo si muta, lo si modifica, lo soprattutto lo si riutilizza. A me interessa molto questo processo che nell'evoluzione oggi è molto importante, no? La rifunzionalizzazione, cioè una struttura che si è evoluta per certe ragioni nel passato, viene riutilizzata in modo creativo per tutt'altre funzioni oggi. Il nostro cervello è un esempio formidabile di questo bricolage, no? Quindi, se le cose stanno così, perché imperfezione? Perché è chiaro che il risultato finale non sarà mai perfetto, il non plus ultra. Sarà sempre un compromesso tra il materiale che tu avevi a disposizione, con i suoi vincoli, i suoi limiti, e le nuove funzioni, nuove situazioni ambientali in cui tu ti vieni a trovare. Quindi noi, per esempio, non siamo perfetti. Il bipedismo, che ci permette di camminare, di passeggiare, è un adattamento estremamente imperfetto, molto costoso, che ci porta un sacco di problemi, tra l'altro biomeccanici, mal di schiena, eccetera. Quindi, perché è rimasto? Perché ci dà degli altri vantaggi, di locomozione, di flessibilità, di spostamento, la liberazione delle mani, per cui io posso gesticolare e così via, e però un prezzo. Ecco, questo è il punto, no? Vantaggi e prezzi, costi e benefici. C'è sempre un compromesso nell'evoluzione. Quindi l'evoluzione non produce quasi mai strutture perfette una volta per tutte. Come diceva Darwin, una volta dove c'è perfezione non c'è storia, cioè non succede più niente. Devi guardare l'imperfezione, perché dove c'è imperfezione, cioè dove c'è diversità individuale, che succedono le cose, cioè c'è creatività, c'è cambiamento, c'è trasformazione. Questo è il messaggio, in fondo. Senti, in questa prospettiva, che ruolo ha il sesso? Perché si parla, l'impressione, no, spesso anche proprio della selezione ambientale, però un ruolo ce l'ha anche la selezione sessuale. Come funziona e perché è stata scelta, poi c'è stata scelta. Perché poi si è creata questa cosa? Perché non era scontato che ci si dovesse riprodurre attraverso una diversità di sessi, è anche abbastanza faticoso. Perché ha funzionato questa cosa? Il sesso è un bellissimo esempio di imperfezione, di compromesso, se vuoi, perché tutti lo diamo per scontato, no? Che ci sia la riposizione sessuale a maschi, femmine. In realtà non è affatto così, perché appunto, perché il sesso è un insieme di adattamenti e comportamenti molto costoso, molto pericoloso, perché richiede energie, richiede tempo, ti espone i predatori, insomma, non è banale spiegare come si sia evoluto. Allora, qui in realtà non lo sappiamo ancora, ci sono varie ipotesi, si è evoluto circa mezzo miliardo di anni fa con l'evoluzione degli animali, le piante, per esempio, hanno tutti altri modi per riprodursi, anche se anche loro hanno maschi e femmine, ma moltissime piante sono ermafrodite, per esempio. Quindi prendiamo l'esempio degli animali, tanto per rimanere più vicini a noi, noi pensiamo che il sesso sia uno stratagemma efficacissimo per produrre diversità, cioè aggiungere un elemento di diversificazione. Questo perché? Perché con il sesso tu hai il DNA del maschio, del padre e della madre, che si ricombinano, che si mescolano, e il risultato qua è geniale, se ci pensi, che i figli sono innanzitutto tutti diversi tra di loro, nel senso che nascono tutti un po' diversi tra di loro, perché ognuno di loro è una ricombinazione diversa di quel DNA. E ricordiamoci che anche i due gemelli omotrigoti, è vero che hanno il DNA uguale, ma ne oggi sappiamo che hanno l'epigenetica, i marcatori, l'esperienza individuale, quindi comunque non sono due individui identici, non sono due coloni esatti uno dell'altro. Quindi diversità dei figli. E poi ciascuno dei figli è comunque un po' diverso dai genitori. È vero che gli assomiglia perché abbiamo ereditato i caratteri di nostro padre e nostra madre, ma non siamo nostro padre e nostra madre. Quindi tu hai alla stessa generazione e nel passaggio dei padri e figli diversità. E perché è così importante? Vedi la pandemia, dove abbiamo esattamente visto sta cosa. Anzi, possiamo fare proprio l'esempio. Vi ricordate, abbiamo visto le famiglie dove arrivava il Covid, non so, il papà aveva dei sintomi severissimi, la mamma niente. Oppure il virus arrivava e infettava tutti i figli, quattro figli di una famiglia, uno aveva sintomi gravi, gli altri tre no. Ma come è possibile? Stessa famiglia, parentela stretta. È lì il punto. Esattamente quella è la questione. Cioè, grazie al sesso succede che se arriva un parassita, un patogeno, un virus, un batterio e colpisce una discendenza, siccome sono tutti diversi da di loro, qualcuno probabilmente sarà resistente. Se invece tu, vecchio sistema come c'è ancora adesso, ti cloni, quindi non c'è sesso, ma per esempio la mamma per partenogenesi, come succede nei rettili, in certi rettili o pesci, fa figli tutti i cloni genetici, uno dell'altro, arriva un parassita, lì fa fuori tutti, perché sono tutti identici. Quindi il sesso è una difesa, è un vaccino potremmo dire, è una sorta di difesa naturale contro i batteri. Noi pensiamo che questa sia l'origine. Dopodiché, ovviamente è successo di tutto, mi raccomando, quindi questo è il punto di origine. Poi i sessi si sono diversificati, i comportamenti sessuali pure, c'è l'omosessualità, c'è l'ermofrodichismo, c'è il cambio di sesso, quindi dopodiché, a partire da questo inizio, come al solito, l'evoluzione sperimenta tante vie diverse, e anche, come dicevi tu, la selezione sessuale. Cioè, noi oggi sappiamo che si può competere per le risorse, per la sopravvivenza, e quella della selezione naturale, ma si può competere anche direttamente per la riproduzione. Quindi, quando noi vediamo due maschi che si scontrano, si scornano, stanno misurando la loro forza competitiva rispetto alle femmine, con le quali potranno accoppiarsi in quel gruppo. Oppure, quando vediamo un uccello, con un ornamento meraviglioso, che fa delle danze, o che sfoggia dei colori sgargianti, sta cercando di sedurre le femmine per farsi scendere dalle femmine. Quella è la selezione sessuale che Darwin scoprì, stata molto contestata per tanto tempo, ma oggi sappiamo che è un meccanismo importantissimo nell'evoluzione. Da questo punto di vista, questi comportamenti a cui accennavi tu nel mondo animale, queste cose sgargianti, insomma anche costose, come le corna in alcuni animali molto grandi, molto estese, questi palchi, oppure appunto il pavone, l'esempio che si fa sempre. Ma poi in realtà si può vedere anche un po', almeno in alcune culture dell'uomo, diciamo la capacità di esprimere una spesa anche superflua, può giocare un ruolo. Allora mi chiedo, è stato studiato il ruolo della femmina dal punto di vista, del rapporto con l'ambiente? Cioè nel senso, anche una funzione delle femmine animali, diciamo, e quindi anche quelle umane, per quello che si sa, di capire, anche magari a livello inconscio, la fitness ambientale invece del maschio e quindi del suo patrimonio genetico rispetto all'ambiente? Sì, sì, certo. Diciamo, qui le cose sono un po' cambiate, bisogna stare attenti perché sono usciti tanti libri anche in passato che la facevano un po' troppo semplice, quindi i maschi che vanno in giro col motorino e impennando sono in realtà come i maschi del pavone. No, attenzione, bisogna stare attenti ovviamente a non essere riduzionisti e pensare che gli esseri umani facciano esattamente come gli animali perché ci arrivo subito e noi siamo una specie profondamente culturale, quindi i nostri comportamenti sono modulati dall'evoluzione culturale. Però diciamo che a livello di selezione sessuale quello che abbiamo scoperto recentemente è che la scelta femminile è fondamentale. Quindi la selezione sessuale si basa sul fatto che è la femmina che sceglie alla fine con chi riprodursi. Quindi è vero che i maschi competono tra di loro ma principalmente la selezione sessuale avviene perché i maschi si mettono in mostra, hanno certi tipi di comportamenti e la femmina decide sulla base di quali criteri decide. È vero, è chiaro che se lei vede un maschio molto sgargiante con una coda tipo quella del pavone pesantissima che è riuscito a sopravvivere nonostante quel tipo di ornamento è chiaro che il meccanismo è quel maschio se ce l'ha fatta perché ha dei buoni geni quindi io mi accoppio mi faccio dei figli con lui perché trasmetterà quei buoni geni anche alla mia discendenza però in realtà anche questo è vero fino a un certo punto nel senso che noi oggi abbiamo scoperto che talvolta poi la scelta femminile diventa arbitraria cioè diventa una moda potremmo dire effettivamente una moda quindi alla femmina piacciono certi tipi di canti per esempio del maschio anche se in realtà potrebbero benissimo esserci degli altri canti altrettanto elaborati e altrettanto significativi per i buoni geni di quel maschio quindi quello che abbiamo scoperto recentemente è che c'è un elemento culturale anche negli animali perché la moda è una cultura vuol dire praticamente che in quella popolazione quel canto lì quella melodia è quella giusta culturalmente però non c'è un motivo genetico quindi se è vero questo negli animali figurati negli esseri umani gli esseri umani la dimensione culturale è fondamentale quindi in realtà i comportamenti umani sono modulati poi dal conformismo sociale dalle mode dalle tradizioni di un gruppo quindi qualche retaggio evolutivo tipo questo rimane però io non direi che perché è stata detta anche sta cosa non ci credo per nulla che i grandi artisti del passato avessero fatto quelle opere meravigliose per sedurre le femmine non è la selezione sessuale che spiega questo anche perché ovviamente un cote molto pericoloso di questa teoria perché anche le femmine possono essere le donne possono essere grandi artiste e fare cose meravigliose quindi bisogna stare molto attenti a queste spiegazioni biologiche c'è qualche retaggio biologico ma noi sostanzialmente siamo una specie culturale non credo che siano poi dei processi così monovariabili magari ci sono tante cose che entrano in campo quando si tratta di poi magari arriviamo anche alla creazione però diciamo in generale penso che i comportamenti abbiano sempre tante fonti non una soltanto esattamente quando tu entri in una dinamica culturale hai da un lato l'interazione tra la biologia e la cultura quindi per esempio noi abbiamo avuto dei cambiamenti biologici dovuti alla cultura che sembra il mondo la rovescia però è così cioè noi abbiamo imparato a cucinare i cibi e a mangiare cibi cotti questa è cultura non è biologia la cottura del cibo è un comportamento tecnologico adesso noi non possiamo più vivere mangiando solo cibi crudi come è possibile sta cosa è possibile perché la nostra biologia si è adattata alla nostra cultura cioè al fuoco e la capacità di sviluppare questa tecnologia noi riusciamo a digerire il latte fino a alcuni di noi a digerire il latte fino all'età adulta come è possibile non succede in natura i mammiferi non lo fanno dopo lo svezzamento non riescono a digerire il latte un cambiamento genetico è subentrato per adattarci a un cambiamento culturale quindi vedi che nell'evoluzione umana addirittura può succedere il contrario prima noi evolviamo culturalmente e poi la biologia ci viene dietro quando di solito pensiamo che fosse il contrario cioè prima la biologia e poi la cultura che si innesta nella biologia in realtà le cose sono molto più complesse di così e multifattoriali appunto come dicevi sì poi questa è quella cosa che diciamo sul piano scosceso estremizzata può anche dare luogo a deliri a sogni di onnipotenza come è successo questo totalitarismo in passato che volevano ripensare l'uomo nella sua natura ovviamente quello di cui stai parlando tu sono probabilmente dei processi molto più lunghi e più anche meno meno progettati e meno violenti anche ovviamente però c'è chi si è spinto a pensare addirittura a un'interazione cultura e biologia così forte così programmata così anche terribile sì è vero c'è in realtà un collegamento c'è una letteratura che ha affrontato questo cioè i totalitarismi e in generale le visioni totalizzanti dell'uomo si sono sempre basati su una certa idea di natura umana che fosse plasmabile liberamente ovviamente i totalitarismi e gli orientamenti anche molto diversi tra di loro e questo sappiamo a quali tragedie ha portato quindi l'evoluzione invece ti insegna ancora una volta quell'imperfezione di cui parlavamo prima a cosa è dovuta è dovuta al fatto che tu ti porti dietro un retaggio una storia il legno storto dell'umanità appunto che è difficile da raddrizzare quindi bisogna essere molto più cauti in questi sogni di trasformazione dell'uomo anche perché facciamoci caso poi alla fine quel sogno di trasformare l'uomo si basa sempre su un tuo pregiudizio su cosa deve essere un uomo e questo è di per sé antidemocratico violento è impositivo io torno sempre al concetto radicale che ti insegna l'evoluzione cioè che non c'è un individuo uguale a un altro quindi qualsiasi tentativo di massificazione è destinato al fallimento o comunque destinato a fare soffrire molte persone perché il dato creativo fondamentale da cui partire è la diversità individuale ineliminabile di ognuno di noi dopodiché certo siamo anche una specie sociale e quindi poi è chiaro che possiamo darci delle regole di compensazione sociale di giustizia sociale è fondamentale questo ma senza dimenticare mai la diversità individuale a un certo punto tu parli anche del paradosso della regina rossa cioè l'idea che dal punto di vista evolutivo alle volte bisogna muoversi semplicemente per rimanere fermi cioè per continuare a sopravvivere in determinato ambiente scusami se semplifico eccessivamente e lì questo una delle cose su cui rifletto ogni tanto cioè è vero che dobbiamo cambiare per sopravvivere però ed è probabilmente molto difficile da quantificare quale sarebbe il livello di cambiamento automatico e ottimale a priori però non credi che diciamo nessun cambiamento porta porti appunto come dicevi prima alla stasi alla morte di un ambiente e un eccessivo grado di cambiamento porti invece ha una sensazione di sradicamento e di proprio di difficoltà di sentirsi a casa anche culturalmente in un ambiente o anche poi invece dal punto di vista proprio ambientale può succedere se ci saranno dei grossi cambiamenti climatici ad esempio questo di quei casi cioè tu credi che ci sia uno spazio ottimale per il cambiamento oppure non è una cosa che possiamo provare a controllare sì questa è un'ottima domanda perché è chiaro che tutti e due gli estremi sono molto pericolosi un'eccessiva lentezza e stasi è pericolosissima nell'evoluzione perché tu tendi a specializzarti troppo un ambiente in modo appunto statico al primo cambiamento ambientale sei quello più in difficoltà di tutti molte estinzioni sono venute così sono venute su specie che erano troppo specializzate a un ambiente particolare troppo come dire focalizzate anche il contrario però può succedere cioè per quanto tu sia una specie abbastanza flessibile generalista se poi il mondo attorno a te cambia in modo talmente travolgente veloce che tu non riesci a starci dietro ti estingui uguale quindi sia un'eccessiva velocità che un'eccessiva lentezza possono essere molto pericolosi quello che noi temiamo molto per questo io uso sempre la metafora della regina rossa è che noi si possa rischiare di essere nella seconda situazione in questo momento perché c'è un elemento ancora una volta aggiuntivo una novità radicale in quello che sta succedendo la regina rossa è una metafora bellissima che è tratta da lui scherro dal secondo capitolo di attraverso lo specchio che è la seconda nel secondo libro della saga di Alice nel paese della Bibbia e c'è tutta una metafora scacchistica dentro lo sappiamo l'autore era un matematico e a un certo punto si inventa questa metafora molto bella vede la regina Alice vede la regina rossa che corre e le dice ma perché stai correndo perché hai tutta questa ansia questa foga e le dice ma non vedi che l'ambiente attorno a noi si sta muovendo se tu vuoi sembrare fermo l'ambiente che cambia devi correre e se vuoi spostarti devi correre il doppio rispetto all'ambiente perché è una metafora importante per noi perché questo succede in natura normalmente tu pensa ospite parassita oppure le piante gli insetti che coinvolvono tra di loro è tutto un gioco di mosse contro mosse il sistema immunitario dell'ospite sviluppa una difesa contro un agente patogeno ma quello dopo un po' muta e ti attacca di nuovo e di nuovo il tuo sistema immunitario deve trovare una difesa quello che sta succedendo adesso e che succederà nei prossimi anni tra noi e il SARS-CoV-2 è una corsa della regina rossa ma c'è un ma importante che rischia di metterci in difficoltà noi siamo una regina rossa che modifica attivamente l'ambiente attorno a sé cioè non è che ce lo troviamo così e non è che cambia così ineluttabilmente indipendentemente da noi siamo noi che lo stravolgiamo che lo cambiamo quindi il climate change che cos'è? è noi che negli ultimi secoli che la pittura evolutiva è un tempo strettissimo abbiamo stravolto l'ambiente abbiamo forzato il clima verso il caldo e adesso io che sono colpevole di questo nel senso che ho prodotto questo cambiamento obbligo i miei figli e i miei nipoti ad adattarsi a un'ecologia che io ho modificato questa è ancora la regina rossa domanda la regina rossa che deve correre a una velocità pazzesca perché siamo noi che modifichiamo ogni generazione l'ambiente in modo profondo e questo ci preoccupa molto per le ragioni che ci fanno all'inizio cioè la domanda è se l'ambiente cambia in modo troppo veloce quanto sarà costoso l'adattamento dei miei figli e dei nostri nipoti ce la faranno? sì ce la faranno ma a che prezzo? in termini di migranti ambientali di riadattamento di tutto quanto quindi vedi che l'evoluzione ti aiuta anche a leggere una dinamica come quella che sta succedendo adesso tra l'altro c'è un altro un altro tema ce ne sono molti insomma ma uno che sento particolarmente elettivo per provi e motivi è ovviamente la questione che l'uomo è un animale narrante e se è vero che la narrazione può dare luogo a tutta una serie di ragionamenti a posteriori appunto può introdurre quel telos finto di cui cioè non autentico non reale di cui parlavi prima all'inizio eccetera è anche vero che consegna un grande insegnamento che è proprio quello della Regina Rossa nel senso la vita è una serie di ostacoli che non finiscono mai è vero poi dopo magari un'opera narrativa può giungere a un finale che se è buono in genere poi vende di più in consolatorio però comunque al di là del finale l'arco gli archi narrativi in genere si compongono si strutturano di ostacoli messi anche in una certa maniera eccetera eccetera che è una grande metafora appunto di quello che stai dicendo che è poi il contrario invece di quei sogni di stabilità infinita che si sono coltivati magari in momenti di grande benessere o di indebitamento adesso sto facendo delle metafore sociali però ad esempio il paradigma che c'era una volta del posto fisso della stabilità infinita e che la vita a un certo punto è risolta la cosa lì poteva essere una cosa a cui puntare per scopi sociali ma non aveva una una vera diciamo aveva un'utilità di contrattazione però non aveva un'utilità cioè un valore di verità rispetto a come è il mondo no? e quindi la narrazione ci consegna un po' questa verità cioè che il nostro rapporto con l'ambiente è sempre un rapporto di cambiamento di interazione e tu ti sei occupato anche un po' del anzi un po' estesamente del rapporto fra narrazione e evoluzione come lo vedi? cosa ti interessa di più di questo rapporto? beh mi interessa il fatto che noi non possiamo mai uscire dalle narrazioni noi siamo una specie narrativa noi ci raccontiamo le nostre spiegazioni del mondo ci raccontiamo i nostri le nostre relazioni sociali cerchiamo di dare un senso al mondo raccontandocelo questo l'evoluzione te lo fa vedere benissimo noi siamo diventati migranti quando abbiamo imparato a raccontare storie perché chi andava un po' più in là tornava indietro e raccontava la storia di quello che aveva visto e gli altri potevano immaginare quello che lui aveva visto e quindi andavano anche loro quindi non ci sarebbe la capacità di migrare di esplorare il mondo senza la capacità di raccontare storie non potremmo cacciare specie di grossa taglia se non ci fosse la narrazione perché la sera prima attorno al fuoco devi immaginarti una storia adesso domani mattina ci svegliamo facciamo questo tu fai questo tu fai quell'altro poi andiamo e l'animale farà così e gli tenderemo una tratta è una storia se vuoi coordinare un gruppo sociale devi imparare a raccontare storie ovviamente le storie sono estremamente ambivalenti perché ci sono come dicevi giustamente tu storie che ci consolano che ci affascinano ma che rischiano di essere fuorvianti tutte le storie di progresso tutte le storie in cui tu ragioni con il senno di poi che io trovo che sia proprio la base di ogni ideologia parlavamo prima di totalitarismo tu facci caso tutti i totalitarismi del passato del presente usano la storia per addomesticare il presente usano la storia per giustificare il presente come se il presente cioè loro fosse l'unico necessario questa è la grande operazione ideologica della mente umana cioè che è poi il senno di poi ovvero parto dal presente e sapendo come è andata a finire la storia ricostruisco il passato perché so che arriverò a questo punto e questo è il senno di poi è un veleno secondo me perché poi ti fa fare un sacco di errori e automaticamente ti porta a usare il passato come giustificativo del presente invece dovremmo fare uno sforzo che io cerco sempre di fare nei miei lavori divulgativi cerca di metterti dal punto di vista del passato e dimenticati il presente come uno che è necessario e scopri immediatamente che c'erano tante biforcazioni tanti passati alternativi e quindi anche tanti presenti alternativi e che l'unico che noi viviamo oggi non era l'unico possibile ma che il possibile era molto più grande del reale quindi queste sono tutte narrazioni pericolose sono pericolose quelle dove tu come dicevi tu parti dall'accettazione della contingenza ma poi guarda caso torni dentro la narrazione del destino come fanno un sacco di film sliding doors serendipiti questi film dove all'inizio la storia è molto promettente perché sembra che ti faccia vedere vedi il fatto che lei riesca a prendere il metro o non prenderlo è una biforcazione storica e la sua vita va in due direzioni diverse però guarda caso in tutti questi film forse perché come dici tu altrimenti non avrebbero successo alla fine comunque è un destino che si compie e comunque vadano le cose lei deve innamorarsi poco di quello lì e deve proprio ritrovare quello lì perché era destino ecco questo è la negazione di come vanno veramente le cose poi nella vita cioè il fatto che ci sono davvero singoli eventi che possono causare un cambiamento della traiettoria della tua vita irreversibilmente ora uno potrebbe dire vabbè ma anche tu stai raccontando storie questo è vero io lo ammetto cioè non è che io sto dicendo quindi la mia spiegazione è oggettiva e quindi non è narrativa no io ti sto dicendo è vero lo ammetto che io ti sto proponendo una narrazione alternativa che è quella della contingenza dell'esplorazione della possibilità della diversità ma resta una narrazione perché la nostra mente funziona così non c'è dubbio a questo proposito al di là del fatto appunto di poteri istituzioni che possono intestarsi il destino dell'umanità e farsi diciamo incarnarsi almeno nelle loro intenzioni nella loro propaganda come l'ultimo step di un percorso molto lungo questo ovviamente come hai detto giustamente tu è un meccanismo perverso però invece per quanto riguarda la questione del libero arbitrio rispetto ai meccanismi biologici che conosciamo è vero che nulla era scritto perché interagiamo con l'ambiente però anche l'ambiente e questa è una questione sottilmente filosofica credo risponde a delle leggi della fisica della biologia eccetera quindi anche se per noi diciamo al di là delle intestazioni politiche che uno può farsi o non farsi che sono irrilevanti cioè nel senso sappiamo che non hanno valore però in un senso invece filosofico più ampio è vero che per il singolo individuo l'ambiente si presenta in forme che lui ancora non conosce e non può immaginare però in un senso più ampio di diciamo di universo potrebbe essere tutto già predeterminato eh sì questa è una domanda filosofica per eccellenza e allora sai che questo è un dibattito che va avanti da tanto tempo non c'è una soluzione però diciamo il punto a cui siamo arrivati è un po' questo quello che tu dici è vero ma è vero dal punto di vista divino cioè da un ipotetico punto di vista di una mente che possa veramente conoscere tutte quelle leggi di natura allora se noi immaginiamoci questa situazione mi immagino di avere una mente onnisciente quindi conoscere tutti i dettagli di tutte le collisioni di tutte le particelle da quando c'è stato il big bang allora in un'ottica di questo tipo obiettivamente sì nel senso è possibile che tutto fosse già scritto da un certo punto di vista perché è tutta una conseguenziale applicazione delle leggi di natura ci sono due problemi però nei quali io credo abbastanza uno oggi la scienza scopre che esiste anche una casualità però intrinseca no? quella quantistica per esempio quella non la puoi dominare neanche con una conoscenza divina quella è una casualità troppo intrinseca alla materia esattamente quindi per esempio alcuni grandi fisici Guido Tonelli per citarne uno italiano bravissimo che ha scritto libri meravigliosi lui dice e io sono d'accordo con lui ma anche a Mediobal e anche altri che c'è un elemento di contingenza intrinseca nella storia dell'universo quindi secondo loro se noi rifacessimo una storia dell'universo n volte non è detto che arriveremmo ad avere le galassie con la stessa conformazione che hanno oggi e a un certo punto con un sistema solare con la Terra come terzo pianeta quindi c'è un elemento contingente anche lì io non ho simpatizzo molto per questa visione ma non sono un fisico aggiungo da filosofo della scienza che comunque noi non siamo omniscienti e quindi comunque nella nostra vita reale il fatto di essere come dire sballottati dalla contingenza e dal caso è un dato di fatto quindi facciamo l'esempio tanto per farci capire delle mutazioni genetiche è la stessa cosa che dici tu noi le mutazioni genetiche noi diciamo che sono casuali sono degli errori di copiatura del DNA e quindi sono casuali totalmente imprepetibili è vero questo fino a un certo punto gli inquinanti ambientali causano mutazioni quindi le mutazioni possono avere delle cause deterministiche che rigenerano se io fossi un dio un diavoletto che va dentro nel DNA e controlla tutte le piccolissime perturbazioni magari scopro che ogni mutazione che a me sembrava casuale in realtà aveva le sue ragioni ma è importante questo no perché in realtà quello che a me serve per la spiegazione evoluzionistica è che non è prevedibile e soprattutto che non mi interessa che abbia delle cause o meno perché se io sono un ecotossicologo e devo studiare gli inquinanti ambientali mi interessa sapere le cause delle mutazioni ma se sono un evoluzionista no l'importante è che ci siano che siano spontanee e che vengano fuori continuamente quindi nella scienza conta molto anche il punto di vista ma senti a proposito appunto di errori di copiatura e poi appunto di evoluzione attraverso i vari meccanismi di cui parlavi prima avviene e una delle cose che ho trovato sempre molto interessanti è il discorso delle analogie cioè che essere viventi che hanno un percorso che si è biforcato molto nel passato diciamo che hanno seguito strade diverse poi sembrano utilizzare strategie abbastanza simili nella loro struttura corporea ad esempio il fatto che gli animali hanno gli occhi eccetera anche quando sono molto separati fra di loro come si spiega questa cosa? questo è un meccanismo in realtà contro casuale cioè che bilancia la casualità e questo ti fa capire una cosa molto importante l'evoluzione è sempre come dicevamo anche prima un bilanciamento di forze antagonistiche è un antagonismo continuo le mutazioni genetiche continuano a venire fuori e generano instabilità variabilità imprevedibilità ma poi c'è la selezione naturale che le filtra che le addomestica che le mette in fila una all'altra e quindi il risultato alla fine è imprevedibile però qualche volta alcuni pattern come li chiamiamo noi cioè degli schemi ripetuti vengono fuori e te lo spiego con un esempio che faccio sempre a lezione che se non è chiaro tu immaginati non so su un computer una stringa di numeri casuali che vengono fuori casualmente quelle sono le mutazioni casuali numeri che fluttano casualmente ma è sufficiente che tu introduca una piccola regolina nel computer dove dici non so guarda tutte le volte che esce un numero e quello immediatamente successivo a destra non farli mutare più e tienili è sufficiente questa piccola mutazione perché in pochi giri dei numeri vengono fuori delle stringhe ordinate di numeri ma come è possibile siamo partiti dal caso e arriviamo all'ordine che è sufficiente introdurre una piccola regola selettiva per produrre ordine dal caos dal caso questo è l'elemento più difficile da capire dell'evoluzione quindi adesso facciamo un esempio biologico tu hai una funzione molto utile orientarsi nello spazio vedere vedere gli oggetti vedere i movimenti capire dove l'alto e il basso alto, sole, basso, buio, freddo sole, ossigeno, luce, vita quindi io devo imparare a capire a orientarmi alto o basso che è la primissima capacità di orientamento che è dato inizio agli occhi come mai gli occhi si sono evoluti 30 volte 32 volte in parallelo in animali completamente diversi perché le mutazioni sono casuali però quelle mutazioni che favoriscono questa funzione danno un vantaggio selettivo e quindi anche in animali molto diversi tra di loro alla fine comunque sono venuti fuori degli occhi ma non sono mai gli stessi occhi sono occhi venuti fuori in parallelo in tante linee diverse questa si chiama convergenza adattativa si capisce no? convergere verso lo stesso adattamento partendo da animali non strettamente imparentati e qualche volta obiettivamente da origine a strutture meravigliose meravigliosamente complesse se tu pensa l'ecolocazione per esempio la capacità di orientarsi nello spazio lanciando delle onde sonore e poi captando l'onda di rimbalzo l'hanno inventata i pipistrelli sono maestri lo sappiamo nel buio non hanno bisogno di luce perché loro con l'ecolocazione qualche volta chiamiamo sonar ma in realtà appunto si chiama ecolocazione viaggiano velocissimi e evitano gli ostacoli in un attimo perché hanno questo sonar meraviglioso ma ce ne hanno anche i delfini ce ne hanno anche i cetacei che sono dei mammiferi molto diversi e ce ne hanno anche alcuni uccelli che non sono neanche mammiferi lontanissimi come hanno fatto? beh hanno fatto che indipendentemente gli uni dagli altri avendo una fortissima necessità di orientamento in scarsità di luce alla fine sono riusciti grazie a questa continua alimentazione di mutazioni casuali a sviluppare una struttura estremamente complessa perché richiede un cambiamento della struttura dell'orecchio e anche cerebrale è complicatissimo qualcuno fa fatica a capire questa cosa perché dice no non è possibile deve esserci sotto un disegno intelligente ma in realtà ci sono delle ricorrenze simili anche nella lingua che ci sono alcune parole l'incidenza delle parole più usate è molto simile in tutte le lingue al di là della specifica lingua lì devi stare attento devi valutare sempre è una cosa interessante perché quello facciamo anche noi nell'evoluzione se queste parentele profonde tra le lingue sono dovute al fatto che hanno avuto lo stesso antenato comune allora non è come dicevamo prima è perché tu l'hai ereditato o le esigenze che la lingua trova di fronte diciamo a cui si adatta oppure se in parallelo lingue diverse l'hanno avuto diversamente lì sai che i linguisti si sono ancora divisi perché non si capisce le lingue se abbiano avuto una sola origine hanno tante origini però è una domanda tipica che abbiamo anche noi nell'evoluzione anche le lingue hanno degli alberi c'è una lingua d'origine poi si diversificano un po' come le specie senti poi ci portiamo dietro una quantità di DNA che non sappiamo bene a cosa serva il junk DNA e come funziona questa cosa? è un'altra cosa che colpiscono tutta questa quantità a parte che ho preso appunto da un tuo libro che la cipolla ha cinque volte il nostro DNA quindi magari non c'è un legame strettissimo tra capacità cognitive e quantità di DNA mi verrebbe da dire esatto cosa c'è là dentro? con tutto il rispetto della cipolla ma obiettivamente è così questo è un altro elemento della ridondanza cioè dell'imperfezione perché se tu la guardi da un punto di vista funzionale ingegneristico non è possibile non va bene cioè che senso ha che io ho un DNA dove i geni sono soltanto 22.000 e sono meno del 2% di tutta la sequenza tutto il resto? cioè non ha senso che senso ha che la cipolla abbia cinque volte il mio DNA? è un DNA gigantesco che lei utilizza soltanto in minima parte questa si chiama ridondanza è costosa quindi sicuramente è un costo dal punto di vista evolutivo nel caso della cipolla sappiamo perché non voglio farla difficile ma nelle piante succede molto spesso che una specie nuova nasca dalla fusione di specie precedenti quindi per ibridazione si dice qui si porta dietro la somma dei genomi delle due specie di partenza e quindi molte piante hanno dei genomi giganteschi il grano per esempio che abbiamo fuso insieme noi da specie diverse hanno un genoma gigantesco quindi è diciamo dovuto a un particolare tipo di evoluzione e se la tollera se la porta dietro perché evidentemente non gli costa troppo e non l'ha portata all'estinzione però in realtà in quel junk DNA noi oggi sappiamo cosa c'è ci sono un sacco di cose ci sono delle sequenze che regolano i geni che invece fanno delle cose importanti questo è significativo perché vuol dire che il nostro DNA non è un sacchetto con dentro delle palline che sono i geni ma è una rete connessa interconnessa è un sistema complesso dove hai dei geni che fanno un po' come dei muratori cioè costruiscono ognuno il suo pezzettino poi c'è i geni architetti che regolano i geni muratori poi c'è i geni ancora superiori i master e tutti collegati tra loro quindi è un sistema estremamente complesso di regolazione genica quindi un gene può fare tante cose diverse si cooperano tra di loro e questa è una buona notizia ma anche una cattiva notizia è una buona notizia perché vuol dire che dobbiamo ancora capire un sacco di cose sul DNA ed è una struttura molto più complessa è una cattiva notizia perché per esempio se io voglio fare la terapia genica purtroppo tante malattie non sono dovute a un singolo gene ma sono dovute a un network genetico e quindi riuscire a cambiarli è molto più difficile purtroppo quindi le malattie degenerative il sistema nervoso i tumori e così via purtroppo sono dei nemici molto più insidiosi di quanto non pensassimo e poi comunque questa rete comunque è nel DNA diciamo attivo o comprende anche diciamo ci sono delle attività che stiamo cominciando a capire anche nel junk DNA è appunto chi lo sa nel senso che lì proprio si misura la nostra ignoranza ti do un'idea tanto per farti capire nel genoma dell'organismo più piccolo che siamo riusciti a ricreare in laboratorio un terzo dei geni quelli muratori quelli proprio di livello non sappiamo cosa facciano quindi già solo lì un terzo di quelli non abbiamo una palla idea di cosa facciano quindi già questo è tutte le idee che non siamo ignoranti in più ci sono tutte le sequenze regolative che sono sparse qua e là nel cosiddetto junk DNA delle quali sappiamo ancora pochissimo sappiamo che sono attive che fanno qualcosa ma non sappiamo ancora esattamente cosa come ho detto una volta un mio collega genetista con una metafora molto corretta ha detto DNA è come un alfabeto una lingua di cui conosciamo l'alfabeto le letterine la bene le conosciamo conosciamo un pochino la grammatica ma la sintassi più complessa la semantica ancora ci sfungono in gran parte noi siamo veramente molto ignorati detto ciò però comunque una parte del junk DNA è veramente junk cioè ci sono alcuni cromosomi umani che sono fatti quasi interamente di sequenze ripetute sempre la stessa sequenza ripetuta migliaia e milioni di volte ora va bene tutto ma io pensiamo che quello semplicemente sia ridondanza cioè serve magari per distanziare i geni serve a fare una funzione strutturale ma lì dentro non ci sono dei geni non c'è niente che serva a qualche cosa quindi questo che cosa ci insegna ci insegna una cosa che molto spesso abbiamo dimenticato è che anche il nostro genoma è un accrocco cioè è un sistema imperfetto che si è evoluto nel corso del tempo ha accumulato roba qualche volta ha riutilizzato strutture già esistenti per nuove funzioni geni per nuove funzioni e funziona ma non è un'opera ingegneristica non è un ponte che no non è perfetto è è quel che si può con il materiale a disposizione questo è ancora una volta il messaggio che capisci andando a vedere bene questa giungla del DNA un grande biologo del passato disse è un garage pieno di roba in più perché non si sa mai perché la puoi sempre magari riutilizzare per una nuova funzione ecco esatto cosa si potrebbe tirare fuori da là se avessimo delle conoscenze più avanzate come probabilmente in futuro avremo cioè anche versioni precedenti di noi c'è il backup degli esseri viventi da dentro sì c'è anche il backup due scoperte recenti quasi fantascientifiche una si è scoperto che alcuni geni nuovi apparentemente nuovi che fanno delle cose importanti per farci vivere in realtà si sono evoluti utilizzando due pezzi che non servivano a niente dentro il junk DNA che è esattamente quello che dicevamo prima cioè dalla spazzatura potremmo dire abbiamo ripreso due pezzettini li abbiamo messi insieme li abbiamo riutilizzati per una cosa molto importante addirittura questo è pazzesco noi siamo stati capaci di riutilizzare per una funzione fondamentale che è la placenta lo sviluppo della placenta un gene virale cioè che c'era stato infilato dentro nel nostro DNA da un patogeno quindi sicuramente un gene non funzionale perché era un parassitano ma noi creativamente siamo stati capaci di riutilizzarlo per per una funzione fondamentale e poi c'è anche una copia di backup perché molti geni noi sappiamo che hanno una coppia che funziona che è quella attiva e poi hanno un sacco di coppie di backup e questo è geniale perché vuol dire che sulle coppie di backup si possono accumulare mutazioni che non hanno nessun effetto né positivo né negativo ma se ti salta fuori una coppia di backup che funziona meglio dell'originale la puoi sostituire e quindi abbiamo scoperto che il DNA ha inventato ben prima di noi quello che facciamo col computer quando prendiamo una coppia la mettiamo da parte solo che lui muta anche la coppia di backup e poi l'altra cosa che mi piace molto adesso si è scoperto che nel DNA junk ci sono anche vecchi geni dismessi proprio come un garage non so nel DNA degli uccelli ci sono ancora dei geni atavici che fanno crescere i denti perché una volta gli antenati degli uccelli avevano i denti oppure che fanno crescere la coda ossea cioè lo scheletro che si avanza e da dove dice la coda e quindi qualcuno sta pensando che se io adesso fossi capace di prendere un uccello un pollo e gli modifico quei geni di e li riattivo faccio un pollo con i denti un pollo con la coda e viene fuori un pollo sauro cioè un pollo un po' pollo un po' dinosauro quindi io ho un po' di dubbi sul fatto se sia davvero opportuno farlo diciamo che tecnicamente si può fare è l'animale da compagnia definitivo un bel pollo sauro sempre che poi non finisca come in Jurassic Park e poi si arrabbiano esatto sì tra l'altro ogni tanto nascono anche delle persone che hanno la coda io ho un amico a cui non era tra l'altro era successo che era già quasi adulto diciamo giovane avevano una ventina d'anni non la coda ma praticamente gli hanno detto che gli erano spuntati i peli della coda senza l'osso e gli hanno tolto questo poi non si vedeva da fuori però aveva avuto un dolore incredibile all'ospedale e gli hanno levato questi peli che si sarebbero dovuti attaccare alla coda ma non c'era la coda per fortuna e c'erano solo i peli una storia assurda però sì sì succede succede non dico spesso ma succede per esempio soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo nel feto e poi nei bambini che nascono con queste caratteristiche succede praticamente che questi geni questa è una cosa interessante si spengono si devono spegnere appunto perché da punti se evolutivo la loro funzione è disattivata sono dismessi però qualche volta a caso di qualche difetto di qualche promotore genetico che non si spegne questi geni rimangono accesi e quindi il risultato è un atavismo cioè un carattere atavico che si è spento nell'evoluzione continua a tornare fuori e questo perché ricordiamoci che noi nel processo di sviluppo non ripercorriamo però diciamo che abbiamo tutta una sequenza nel processo di sviluppo in cui certi geni si disattivano proprio come si sono disattivati nel corso dell'evoluzione passata quindi può succedere può succedere niente di che non vuol dire niente da parte di quella diversità individuale di cui parlavamo senti diciamo l'oggetto con cui riflettiamo su tutto questo sulla nostra condizione sul nostro percorso dove andremo il più difficile da capire però insomma sul nostro essere umani nel mondo è il cervello il cervello non sfuggirà immagino allo stesso problema dell'imperfezione diciamo o meglio allo stesso principio dell'imperfezione il cervello è lo diceva la Rita in Montalcini benissimo un accrocco un accrocco proverbiale accrocco lei con quel suo linguaggio ottocentesco voleva dire una struttura accroccata cioè che ne nasce dalla somma di tante parti un po' strane messe un po' insieme come disse François Jacob una volta è come prendere il motore di una Ferrari metterlo sulla carrozzeria di una 500 e sperare che funzioni tutto bene no non funziona tutto bene scricchiola e infatti il nostro cervello scricchiola ci dà un sacco di problemi è molto costoso ed è anche molto fragile da tanti punti di vista ovviamente tutto ciò lo abbiamo tollerato e non solo perché è chiaro che ci dà invece una potenza di ragionamento di calcolo di immaginazione di narrazione di evoluzione culturale che vale vale tutta questa fragilità vale tutta questa imperfezione soprattutto la plasticità perché nessun animale ha un cervello plastico come il nostro che si sviluppa per due terzi dopo la nascita cioè è una cosa che non esiste in natura in natura uno scimpanzé nasce dopo qualche mese già è arrivato al completamento dello sviluppo cerebrale solo noi abbiamo un cervello che ci mette così tanto tempo ad arrivare a maturazione questo è ovviamente costoso pericoloso è una fragilità però è meraviglioso perché questo cervello è una spugna che impara tantissime cose gioca sperimenta imita sta tutta lì non al nostro segreto quello che a me piace è che la nostra forza sta in una fragilità cioè è quella fragilità lì che ha determinato il nostro successo e la nostra creatività quindi il nostro cervello è estremamente imperfetto ma ancora una volta è un accrocco creativo che costruisce una cosa importante oggi secondo alcuni neurofisiologi come Stanisav Deen e altri Deen ha detto secondo me non c'è nessuna parte del nostro cervello che si è evoluta per fare quello che fa oggi cosa vuol dire vuol dire che noi oggi utilizziamo delle parti del nostro cervello che prima servivano a tutt'altro e questo oggi lo troviamo confermato in tessimi casi leggiamo e scriviamo con parti del cervello che prima che anche servono per funzioni in senso motorio per esempio oppure un lavoro bellissimo che è uscito da i miei colleghi di Cambridge proprio qualche settimana fa la dislessia la difficoltà che alcuni di noi hanno nel processo di sviluppo di imparare a leggere e scrivere questi scienziati i miei colleghi dicono guardate che noi fino adesso abbiamo trattato come una patologia ma in realtà è semplicemente lo stadio evolutivo normale umano perché leggere e scrivere non è una competenza per la quale si è sviluppato il nostro cervello il nostro cervello ha imparato a riutilizzare le strutture già esistenti per leggere e scrivere quindi smettiamola di trattarla come una patologia ma come una variazione popolazionale è interessante questo perché è proprio quello che l'evoluzione ci insegna la straordinaria plasticità del nostro cervello quindi la capacità di riorganizzarsi continuamente ma guarda coraggimi se sbaglio ma sarebbe stato possibile diciamo teoricamente per noi nascere diciamo con un altro percorso evolutivo ugualmente o anche più intelligenti subito diciamo in tempi molto più brevi però il costo di questa cosa sarebbe stata essere molto meno adattabili molto meno malleabili rispetto ai cambiamenti ambientali esatto molto meno plastici esattamente l'adattabilità vuol dire questo l'adattabilità vuol dire che tu non devi aspettare i tempi lunghi dell'evoluzione da rominiana per buttarti per modificarti geneticamente l'adattabilità vuol dire che tu con lo stesso cervello puoi fare tantissime cose diverse oppure col pollice opponibile puoi mandare gli sms puoi scrivere su twitter cosa ovviamente insensata la pulizia evolutiva nessuno oggi direbbe ha il voluto per mandare i messaggi su twitter però siamo capaci di farlo questo ti insegna una cosa fondamentale nell'evoluzione l'origine storica di una struttura non necessariamente coincide con la funzione attuale questo è un altro elemento importante del bricolage evolutivo ecco proprio hai citato twitter adesso io sono molto contento di vivere diciamo in un punto del nostro percorso in cui ci sono molte meno guerre tribali non c'è la schiavitù le donne vengono trattate meglio insomma tutte cose molto positive al tempo stesso la tecnologia dà la possibilità a chi vuole sfruttare l'imperfezione umana di avere una quantità di dati una quantità di osservazione una quantità cioè il potenziale per la manipolazione è aumentato moltissimo nei secoli e questo è vero che ci adattiamo continuamente eccetera però forse la tecnologia in questa quantità e poi nelle quantità che arriveranno in futuro rappresenta una sfida nuova per la specie credo sì sicuramente proprio per le ragioni che c'avevamo prima se ci pensi prova a inquadrarle nel modello che io propongo sempre una tecnologia che evolve in modo così veloce è la regina rossa che a un certo punto deve correre perché torno a sé la nicchia ecologica che la nostra è una nicchia tecnologica è andata avanti un sacco e quindi si trova un po' spaesata si trova un po' in jet lag un po' in ritardo cosa è successo solo che è lei che ha prodotto la mente di altri che ha prodotto quelle tecnologie quindi questo è il primo fatto secondo non meno importante è che alla fine però il nostro cervello ha comunque dei ritmi evolutivi lenti rispetto a queste tecnologie quindi quello che secondo me sta succedendo adesso è che noi stiamo cercando dentro una nicchia ipertecnologica come è il web quelle protezioni quelle consolazioni molto tradizionali molto antiche che il nostro cervello ha sempre cercato cioè la tribù la tribù la tribù è il nostro luogo di elezione il nostro cervello si è sviluppato in una tribù cioè una cerchia di persone tra le 75 e le 150 parenti più amici più conoscenti una serie di relazioni tutti piuttosto simili a te la pensano tutti piuttosto nello stesso modo come la pensi tu vivete nello stesso ambiente questo è il grande noi protettivo dentro il quale ci siamo evoluti per tantissimo tempo e con tanta fatica nell'ultimo diciamo dall'illuminismo in poi la nostra mente cominciava ad elaborare il fatto che dovevamo uscire da queste tribù e allora avevamo fatto la tribù un po' più grande la nazione e poi la tribù un po' più grande tutta la specie umana cioè stavamo piano piano secondo me imparando a capire che quel noi deve allargarsi un po' di più quello che io temo molto è adesso invece passiamo alla nostra esistenza online e cosa stiamo facendo lì stiamo ricreando la nostra piccola vecchia tribù di una volta la nostra bolla tutti che la pensano come noi ah guarda il suo rapporto fra diciamo modernità tecnologica e contemporaneità tecnologica e atavismo tribale ho scritto il mio ultimo libro perché secondo me è un tema centrale ah ok però devo leggerlo non lo conoscevo devo leggere poi mi dici cosa ne pensi sono curioso perché secondo me è proprio un tema un tema fondamentale perché lo vedi che ci sono tutta una serie di comportamenti che sono proprio precividi da questo punto di vista io trovo anche molto interessante il legame che è stato un po' un pretesto per poi per scrivere il libro che poi parla di tutt'altro fra non so se conosci questa storia è molto interessante il primo investitore privato in Facebook che era Peter Thiel era un allievo di René Girard a Stanford ma non un allievo così a caso è un allievo diciamo che poi ha creato una fondazione su di Girardiani eccetera e Girard come sai meglio di me è teorico del capospiatorio come fondazione della civiltà umana soprattutto in epoca tribale insomma poi non solo però e quindi è molto interessante che Thiel ha proprio detto io ho visto certi meccanismi tipicamente Girardiani all'interno di questi social networking divenire all'inizio e ho capito funzioneranno perché l'uomo è fatto così è molto interessante però l'uomo è fatto così è un po' il discorso di prima sì è fatto così però avevamo anche sviluppato tutta una serie di istituti nel tempo che ci aiutavano a contenere no questa tribalità non so il giusto processo lo stato di isola della democrazia la pubblica opinione cioè diciamo una sfera della pubblica opinione con diversità di vedute eccetera eccetera che sono tutte sono tutti istituti contrari al dominio della tribuna che è super unilaterale eccetera eccetera come sappiamo quindi questo è sicuramente interessante e al tempo stesso è uno di quei discorsi proprio sul sul time frame un po' cioè i cambiamenti sono così veloci che non so se ce la facciamo ad adattarci in tempo per mantenere la nostra indipendenza cioè diciamo quella componente di umanesimo che ci piace riconoscere negli esseri umani anche magari con un po' di ottimismo alle volte sì sì sono totalmente d'accordo con te non sapevo se ci fosse questa coincidenza di analisi io la vedo dal punto di vista evolutivo ovviamente ma quello che a me preoccupa molto anche questo discorso che facevi dell'allievo di Girardi conosco bene la parola di Girardi anche degli elementi ovviamente inquietanti ovviamente quella è una descrizione non è scienza diciamo è antropologia con i limiti esatto e cioè che la democrazia e così come la scienza il mito scientifico come dicevi giustamente tu sono dei tentativi faticosi che ne abbiamo cercato di costruire lentamente e faticosamente per contrastare questa attitudine tribale e come tu i comportamenti controintuitivi c'erano segni all'evoluzione sono reversibili cioè sono sempre soggetti al rischio di tornare indietro quindi il fatto che sul web intenzionalmente ci siano delle dinamiche cioè gli algoritmi che cavalcano la tribù non la tigre ma la tribù cioè cavalcano e sfruttano commercialmente il meccanismo del conformismo dei bias di autoconferma io lo trovo molto preoccupante perché lì è un'autostrada cioè lì vai a lavorare su un retaggio molto potente della mente umana molto intuitivo che funziona e funzionerà sicuramente e sta già funzionando tantissimo quindi bisogna fare un'opera di contro controinformazione di resistenza potremmo dire proprio per tenere alto la guardia sul fatto che avevamo conquistato dei noi un po' più grandi quindi bisogna civilizzare il web da questo punto di vista secondo me ecco come dire bisogna lavorare anche su una leva proprio tecnica per esempio l'algoritmo che continua che continua a proporti delle scelte culturali commerciali sociali limitrofe ai tuoi interessi è deleterio perché piove e frubbagnato e poi perché non ti permetterà mai di scoprire qualcosa di nuovo non ci sarà mai serendipità perché il paradosso che vedo io è siamo partiti con il web che era fantastico anarchico tutte le informazioni che bello con tre click arrivo dappertutto e adesso mi incanalano in una situazione in cui non posso più scoprire quello che non stavo cercando che poi è la cosa più bella dell'impresa scientifica umana e conoscitiva c'è quella scena in paura di venire a Las Vegas sia nel libro che credo anche nel film a un certo punto quando Johnny Depp nel film aiutami adesso Hunter Thompson guarda la finestra e gli sembra di vedere l'onda che è arrivata quasi fino a Vegas l'onda contro cultura in quel periodo storico eccetera e poi si è ritirata di fronte a questo ultimo bastione del capitalismo internet è successo qualcosa di simile un po' con la Silicon Valley cioè è nato come esperimento appunto anarchico ma anche cooperativo eccetera eccetera ed è finito con vendere pubblicità sui social network tenendo lì la gente il più possibile no? è un altro insomma esperimento insomma non è ancora finito però non si è messo non si è messo benissimo non credo che nessuno degli appassionati io non sono un appassionato di internet però oggettivamente una delle grandi forze del nostro tempo va considerata va a un minimo studiata però non credo che nessuno dei o quasi nessuno di quei fondatori avessero in mente quello che poi è successo sì certo è chiaro che il grado di intenzionalità lì non è che fosse un processo prevedibile sicuramente però quello che io invece vedo che è sempre ricorrente se ci fai caso una vecchia storia cioè tu a un certo punto capisci che c'è un retaggio intuitivo naturale e lo cavalchi lo cavalchi per far soldi lo cavalchi per avere potere poi sostanzialmente è sempre stato così quindi noi sappiamo che nella nostra testa purtroppo c'è un un retaggio che è sempre lì attivo pronto a distinguere chi è come noi e chi è altro da noi e io mi invento una retorica una propaganda dei meccanici un ambiente dove ti faccio stare e dove confermo continuamente questo tuo retaggio consolatorio intuitivo e intanto ti spenno ti rendo mio suddito e ti faccio pagare un sacco di soldi questo però ecco il vantaggio nostro un elemento di ottimismo è che noi lo sappiamo adesso però questa cosa questo meccanismo lo conosciamo e quindi possiamo provare a smontarlo e contestarlo sì bisognerebbe agire come dicevi giustamente tu molto giustamente tu prima proprio sugli algoritmi però queste sono black box che non si fanno indagare perché è il loro argomento che ha anche una sua validità diciamo il loro valore sta nell'algoritmo nascosto e quindi ovviamente non cederanno molto facilmente quindi è una situazione non semplicissima perché la soluzione dovrebbe essere in larga parte tecnica credo perché altrimenti vengono disposte delle forze che sono veramente troppo forti per noi agiscono proprio sul nostro cervello ottavico non è facilissimo contrastarle in maniera rilevante collettiva bisogna agire proprio sulla tecnologia adesso non mi sembra ci siano ancora le condizioni forse forza di parlarne nel mondo se si creerà una sensibilità magari è come il discorso di inquinamento nei 50 60 nessuno pensava che esistesse neanche una cosa chiamata inquinamento sì sì penso che sarà spero una questione di evoluzione ancora una volta della sensibilità quindi noi abbiamo fatto con Marco Paolini con abbiamo fatto la fabbrica del mondo abbiamo fatto questa provocazione facendo vedere una trasmissione televisiva che la Rai mandava alla fine degli anni 60 l'amico degli animali e c'erano delle scene pazzesche di questo che manipolava i coccodrilli li toccava li girava faceva vedere come la parte sotto era quella perfetta per fare le borsette poi aveva un a vivi sì sì certo ah in studio ma non era quello che poi è morto ucciso dalla manta no 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 era molto tempo prima ok e poi avevo un aiutante inserviente di studio che era di colore ed era vestito come un vecchio cioè noi con Marco Paolini ci siamo detti se uno oggi facesse una trasmissione televisiva non dico sulla Rai ma su qualsiasi canale ci sarebbe un'interrogazione parlamentare ci sarebbe uno scandalo quindi per tante ragioni quindi è chiaro che la sensibilità muta il problema che mi angoscia un po' è sempre i tempi cioè quanto ci vorrà prima che la nostra sensibilità muti e si intervenga un po' su quelle tecniche dell'algoritmo che dicevi tu io forse a differenza tua nutro cioè non finisce penso che a un certo punto l'intervento pubblico la collettività possa favorire quindi la politica possa favorire quel cambiamento cominciare a farsi delle domande banali tipo ma tu le tasse dove le paghi qual è il ritorno sociale del lavoro che fai tu l'algoritmo come funziona perché stabiliamo per legge che deve essere trasparente quello che stai facendo cioè non so forse un giorno arriveremo questo si spera diciamo ma io non sono così non so se ti ho dato questa impressione di negatività assoluta penso che sia molto difficile penso ad esempio che questo che hai citato tu delle tasse è stato uno dei problemi originali perché le ha permesso a questa società di accumulare delle ricchezze che le hanno resi ulteriormente al di sopra della legge per molti versi oggi la cosa che a me preoccupa di più di questo processo che deve sicuramente passare alla politica è che tu per vincere le elezioni hai bisogno di passare da questi canali loro ti chiudono il rubinetto tu non esisti più e questo è un problema non da poco senti ma invece l'ultima domanda che è una questione più filosofica in un certo senso comunque internet non solo i social network ma noi oggi viviamo in un sistema in una sovrastruttura che ha moltiplicato le immagini ed è vero che le immagini sono sempre esistite o meglio da un certo momento in poi sono esistite nella storia dell'uomo e sono andate mano a mano moltiplicandosi dai dipinti nelle caverne poi alle icone sacre poi ai giornali eccetera eccetera innanzitutto come nasce questa cosa abbiamo delle informazioni su perché a un certo punto ci mettiamo a dipingere sui muri delle caverne ma sai che no in realtà questo rimane ancora uno dei grandi enigmi dell'evoluzione umana perché non tornano i conti nel senso che tutte le ipotesi che abbiamo fatto hanno un sacco di punti deboli per esempio innanzitutto abbiamo sfatato un sacco di dogmi che ci hanno insegnato a scuola che erano sbagliati tipo che l'arte rupestre le prime immagini nascono in Europa non è vero sono più antiche sicuramente c'erano già in Asia e probabilmente sono nati in Africa e sono state portate fuori da una migrazione umana di Homo sapiens molto prima di quanto non si pensasse quindi pensiamo che sia un comportamento fortemente legato proprio alla nascita della intelligenza simbolica umana come dicevi tu cioè l'esternalizzare su una parete l'immagine di un animale per esempio questo è qualcosa di molto antico associandolo a dei segni astratti che non capiamo cosa diavolo volessero dire delle linee incrociate dei puntini cos'erano dei conti erano delle un po' dopo trovi dei segni regolari set per quattro quindi forse erano i cicli lunari o il ciclo mestruale femminile che è molto interessante perché vuol dire che mi sto facendo delle domande sulle regolarità che vedo nella natura davanti a me è il primo embrione della scienza praticamente però anche lì si era detto girardianamente mettiamo gli animali sulla parete perché li consideriamo simbolo di qualche cosa oppure perché li vogliamo ringraziare per la caccia però non funziona non funziona perché raramente sono gli animali che si mangiavano quindi evidentemente sono degli animali ai quali questi esseri umani attribuivano un altro valore poi erano fatti in luoghi inaccessibili uno potrebbe dire caspita se voglio fare un cosa del genere la faccio su una parete e la vediamo tutti e facciamo un rito per arrivare a vederli dovevi infilarti dentro un cuniclo devi fare tutta una serie di operazioni complicate e poi a un certo punto magari con la luce delle torce vedevi questi animali quindi perché perché questo perché questa intermediazione quindi qualcuno pensa che avesse un significato rituale proto-religioso di quella comunità però quando li facevano c'erano presenti anche le donne e i bambini quindi era comunque con quelle mani che dicevano l'ho fatta io ma ci sono anche delle mani di bambini quindi vuol dire che era un nato sociale questa cosa delle mani è una cosa che ritorna in diverse cose di questo genere in punti totalmente diversi del mondo completamente diversi si le trovi a Sulauesi e poi dopo qualche migliaia di anni li trovi a Chauvet ad Altamira anche quello perché torniamo al tema di prima cioè esseri umani gruppi umani indipendentemente gli uni dagli altri si sono messi a fare le mani o come secondo me è l'ipotesi corretta è perché in realtà sono gli stessi sono usciti dall'Africa arrivano in Asia poi arrivano in Europa ma lo facevano già prima e quindi si portano dietro quel comportamento ecco perché tu lo trovi in Asia e lo trovi anche in Europa perché è un processo migratorio è un'espansione edemica quindi per rispondere alla tua domanda la risposta è non lo sappiamo non ci capiamo molto nel senso che dico solo un'ultima cosa che a me intriga moltissimo perché non ci sono esseri umani all'inizio cioè tu sei un artista paleolitico sei capace di farmi un rinoceronte lanuso mi fai vedere il pelo con i movimenti mentre corre mi fai vedere la gobba mi fai vedere addirittura mi fai vedere la prospettiva perché quello davanti è più grande quello dietro è un po' più piccolo cioè tu sei così bravo e quando mi devi fare un essere umano mi fai tre stanghette e un cerchio perché? perché tu che sei così bravo a farmi un rinoceronte quando devi fare un essere umano cioè devi fare te stesso lo stilizzi in quella maniera lì questo per me resta un mistero insondabile quindi qualcuno potrebbe potrebbe dire in maniera un po' negativa che quando inizia l'autocoscienza sta già iniziando la decadenza Cioran diceva che la civiltà va dall'agricoltura al paradosso e quindi probabilmente prima si vedeva si vedeva l'animale e poi in mano male abbiamo cominciato a vederci noi però la cosa la cosa interessante è anche appunto che si potrebbe leggere questo percorso anche come una grande migrazione dalla realtà all'immagine perché adesso noi viviamo un mondo di internet ma fra pochi anni potremo vivere proprio il mondo appunto il metaverso se non sarà diciamo quello progettato da Zuckerberg potrebbe essere un'altra realtà di quel genere però è anche un po' una grande transizione dalla realtà fisica all'immagine che adesso ha preso un andamento come spesso succede con la tecnologia è molto più ripido però non so se hai riflettuto un po' su questa cosa sì sì non c'è dubbio ma lì sai la nostra comunque resta un'intelligenza visiva quindi è chiaro che noi proiettiamo su quell'immagine una condensazione di significati fortissimi quindi io credo che questo succederà lo vedi anche oggi nei progetti di comunicazione anche della scienza più efficaci e non c'è dubbio il mix tra un racconto quindi quella intelligenza narrativa che dicevo prima e un visual che può essere una grafica fatta bene può essere una sequenza di immagini può essere una scenografia ha una salienza diciamo noi cioè ha una capacità di rimanere memorabile che non ha non ha confronti quindi secondo me anche qua è strano perché in fondo stiamo tornando a capire quali sono le origini delle nostre attitudini più profonde evolutive cioè noi ascoltiamo storie e abbiamo occhi che visualizzano e a me impressiona sempre tantissimo lo vedi continuamente nei bambini la capacità di attenzione che loro hanno quando uno comincia a raccontare una storia e quando i loro occhi visualizzano delle immagini cioè lì c'è qualcosa di profondissimo che tra l'altro è stato confermato recentemente è molto simile a come funziona la mente degli scienziati più creativi che arrivano le scoperte più creative attraverso metafore analogia cioè quella narrazione e quella visualizzazione come diceva un grande matematico del passato i problemi nella scienza non si risolvono si vedono le soluzioni ai problemi non si trovano si vedono a un certo punto la vedi questo mi colpisce sempre molto questa cosa assolutamente va bene Temo ti ringrazio so che sei sempre molto occupato quindi grazie mille del tuo tempo una bella chiacchierata trovate tutti i tuoi libri sotto nella directory e niente buon lavoro e grazie ancora e alla prossima puntata volentieri quando vuoi ciao a presto a presto a presto a presto a presto